Oggi vorrei fare un video un po' diverso dal solito, vorrei provare a condividere con voi una critica argomentata su un social network con cui ho un rapporto particolarmente conflittuale, Instagram. Con questo video non voglio convincervi di qualcosa, vorrei semplicemente condividere qualche spunto di riflessione. La prima cosa che mi ha sempre particolarmente colpito di Instagram è la sua rappresentazione di un mondo di finzione. Quasi nulla di ciò che si vede su Instagram ha a che fare con il mondo reale. Sono tutti felici, tutti in viaggio, tutti bellissimi, nella realtà nessuno è felice, stanno tutti a casa col pigiamone e le foto sono delle vacanze dell'anno scorso. Sembrare felici sembra che sia più importante dell'esserlo realmente, si fanno le cose solamente per potersi fare le foto mentre le si fa e poterle conseguentemente mostrare. Oltre a questo aggiungiamo il confronto sociale. Confrontarsi costantemente con queste immagini di perfezione illusoria non può che alimentare problemi di autostima e di depressione e promuovere la cosiddetta fear of missing out, ovvero la paura di starsi perdendo le cose bellissime che gli altri stanno facendo. Un altro aspetto che mi ha sempre destato particolare perplessità di questo mezzo sono le storie, le quali sono probabilmente l'invenzione più sciocca e inutile della storia dell'uomo. È un modo per dire agli altri guardate cosa sto facendo, guardate quanto è interessante la mia vita. Tutto questo non è altro che benzina per il narcisismo. Vogliamo il culto della nostra identità, vogliamo essere famosi e ammirati ma senza aver fatto nulla di che per meritarci effettivamente. Un altro aspetto che mi turba particolarmente di questo mezzo è il fatto che sia dannoso per la nostra capacità di concentrazione. Questo è un mezzo concepito per mandare indipendenza alle persone, con colori, i cuoricini, siamo bombardati da un'infinità di stimoli. Chi come me ha ricevuto una diagnosi di disturbo dell'attenzione si rende particolarmente conto come veniamo trattati come topolini da laboratorio o come canni di Pavlov? Più tempo usiamo questi mezzi più guadagnano, perciò hanno tutto l'interesse chi gestisce questi siti affinché rimaniamo più tempo possibile su di essi, instupidendoci e utilizzando la nostra parte più primitiva del cervello. Il quinto motivo per cui Instagram non mi piace è che è un grande riempitore di vuoti, dà l'illusione di essere connessi agli altri ma in realtà è una connessione apparente. Come ho già detto in passato siamo più connessi di quanto non lo siamo mai stati ma per qualche motivo non ci siamo mai sentiti così soli. Bene, siccome non voglio incoraggiare una visione in bianco e nero della realtà, la quale ritengo che sia una bellissima scala di grigi, proverò anche a vedere quelli che possono essere alcuni punti di forza di questo mezzo. Innanzitutto con questo mezzo è particolarmente facile farsi conoscere e promuoversi, soprattutto se si è un artista o un creatore di contenuti. La seconda cosa positiva è che se si fa un uso equilibrato si può effettivamente rimanere in contatto con delle persone e ci sono un sacco di profili interessanti che danno valore alla vita delle persone. Come detto infinite volte il male non è il mezzo ma l'uso che se ne fa. Ritengo però tuttora che sia particolarmente difficile farne un uso equilibrato ed utile. Vorrei dunque concludere questo video dandovi qualche consiglio per un uso più equilibrato di questo mezzo. Innanzitutto se già riuscite a farne un uso equilibrato e con questo intendo una ventina di minuti al giorno e sentite che aggiunge valore alla vostra vita e non vi stressa allora tenetelo tranquillamente. Se invece sentite di avere un rapporto conflittuale vi consiglio di provare a non usarlo per almeno un mesetto o anche solo una settimana e vedete come vi trovate. Se invece sentite che vi fa sprecare tempo non dà alcun valore aggiunto alla vostra vita e in più vi intristisce vi consiglio di eliminarlo. In generale consiglio a chiunque di disinstallare l'applicazione dal telefono e al massimo entrare a controllare le notifiche dal browser di internet così renderete più difficile la possibilità di un uso compulsivo di Instagram. Voi invece cosa ne pensate? Lasciatemi un commento, una riflessione, quello che volete qui sotto. Con l'augurio di riuscire ad essere quanto più possibile liberi e indipendenti da questi mezzi noi ci vediamo nel futuro.